da idreamer non c'è pace per la sop opera turca da idreamer le ali del sgono che la serie infatti da sabato 31 ottobre subirà un nuovo cambio di orario i fan potranno seguire per quasi due ore le avventure di cane sanem visto che secondo quanto riporta la guida tv ufficiale di mediaset partirà alle 14 10 e terminerà alle 16 circa la puntata sarà davvero molto intensa e ovviamente ricca di colpi di scena punto da idreamer le ali del sogno orario la nuova programmazione di messa in onda 2 ora in dolce compagnia di tutti i protagonisti di idreamer le ali del sogno una notizia che sicuramente renderà felici tutti i fan della serie e soprattutto di cane sanem la programmazione di canale 5 prevede ben tre episodi consecutivi dopo beautiful infatti il prossimo sabato non andrà in onda una vita la sop spagnola lascerà il suo posto ai beniamini turchi che dalla scorsa estate sono entrati nei cuori dei telespettatori italiani questa non è di certo la prima volta che dai dreamer le ali del sogno subisce una variazione sia nell'orario che nei giorni di messa in onda in estate è stata trasmessa dal lunedì al venerdì poi dal momento che uomini e donne è tornato nel palinsesto la sua naturale collocazione nel primo pomeriggio a parte una prima serata la sopa ha trovato posto nel weekend punto fino ad ora infatti la serie è andata in onda il sabato prima di verissimo è la domenica prima di domenica live per ora c'è da dire che l'orario del 31 ottobre sarà quello definitivo o se ci saranno nuovi cambiamenti quale sarà il futuro della sop gli appassionati di daydreamer le ali del sogno ovviamente non vogliono che la loro serie preferita sia all'improvviso sospesa c'è da dire però che come ogni anno a breve partirà amici di maria de filippi e di solito lo speciale andava in onda il sabato pomeriggio prima di verissimo punto a questo punto non è da escludere che daydreamer potrebbe riavere una nuova collocazione o meglio un nuovo spazio le opzioni sono due verrà escluso dalla programmazione del sabato e verrà trasmesso solo la domenica o ci saranno dei rimpasti che vedranno la sop protagonista anche in altre occasioni per ora purtroppo non ci resta altro che aspettare altre notizie da parte di mediaset punto segui contro cultura su instagram clicca qui la domenica o ci saranno dei rimpasti che vedranno la sop ciao ciao ciao